Musica Marino Calvigioni, presidente dell'Associazione di Arte in Vino, Artevinando quarta edizione che si chiude con un gran successo di pubblico anche al convegno, non solo alle degustazioni che è il momento più piacevole e gustoso ma è anche il momento per fare un bilancio di questa edizione 2018 Ma è un bilancio positivo perché noi abbiamo incominciato a marzo, marzo con un convegno sul Bianchello siamo partiti con un vino del nord della regione per promozionare un po' anche la parte nord poi è andata avanti con tutto il programma con un altro convegno sullo sport, sport e vino poi abbiamo fatto quei due giorni che è l'intervento clonde del programma e siamo arrivati ad oggi a fare questa chiusura Questa chiusura che vuole essere un po' tirare un po' le somme, tirare un po' le somme di tutto quello che è stato il programma come dicevo abbastanza consistente e importante e abbiamo voluto concludere con due persone importanti che uno era il presidente del consorzio del Piceno, l'altro il direttore, mancante il presidente cioè il direttore Mazzoni che era del consorzio di tutela vini due personaggi che nell'ambito Marche sono degli esperti sono degli esperti e che non potevamo fare a meno di chiudere questo programma con delle persone competenti che gestiscono il territorio, che i consorzi gestiscono il territorio poi l'abbiamo arricchito un po' con un giornalista di livello come Carlo Gambi che è stato un convegno molto ma molto interessante Le degustazioni, la partecipazione delle aziende e dei ristoranti, una intuizione vincente? Sì, abbastanza. Giriamo su 40-50 aziende l'anno, mettiamo in campo dopo ogni anno le rinnoviamo, non tutte, una parte vengono rinnovate e cercare sempre nuove aziende, nuove aziende che crescono, le nuove leve anche oggi abbiamo, a questo convegno, abbiamo quattro ristoranti del centro di Sant'Elpide a Mare una collaborazione anche con loro per poter promuovere prodotto gastronomico abbinato al vino Ricordiamo anche che l'associazione ha un aspetto culturale molto importante quindi sono occasioni proprio di accrescimento Sì, l'associazione è partita con l'intento di questa promozione Arte e Vino noi vogliamo abbinare queste due cose promozionando sempre le marche noi facciamo la nostra parte, siamo una bella associazione già che da quattro anni andiamo avanti però non siamo una grande associazione, facciamo molto molto perché ce lo vengono anche come riconosciuto dalle aziende, dagli enti che ci patrocinano e promozioniamo molto, molto, molto sul nostro territorio Manifestazione che ha il patrocinio della Regione Marche perché in un'ottica di turismo e valorizzazione dei prodotti questa ci sta, ci sta a tutti gli effetti in un periodo appunto dove arrivano anche tante persone da fuori dove si possono valorizzare le produzioni tipiche Non potrebbe non starci la Regione Marche quando si parla di vino in un contesto che ci vede sempre più avanzare e guadagnare posizioni sul mercato nazionale ed internazionale Un plauso agli organizzatori per questa giornata di riflessione, di studio su questi prodotti che sono prodotti di eccellenza del nostro territorio, della nostra Regione in un momento storico ed economico dove certamente la possibilità di guardare a queste produzioni è molto importante per tutto il panorama economico regionale visto e considerato che altri settori, ahimè, battono un po' la fiacca quindi ben vengano approfondimenti, ben vengano gli studi e la qualità cosa che in questi ultimi lustri ha fatto veramente passi da gigante nella nostra Regione, nello specifico su queste produzioni, su questo settore il settore enologico in generale Dunque la riflessione questa volta proposta è stata sulle due doc delle Marche che festeggiano i 50 anni, Rosso Piceno e Verdicchio dei Castelli di Iesi due anime della stessa terra è uno slogan da convegno, in realtà non è la stessa terra c'è una forte diversità dal punto di vista ampelografico cioè la coltivazione della vite e dei terreni fra la zona Picena e la zona del Verdicchio di Castelli di Iesi la Valle Esina tieni presente che intanto la prima grande differenza è che la Valle Esina è l'unica valle marchigiana che corre parallela al mare non perpendicolare il che significa dal punto di vista dell'escuzione termica e quindi del favorire gli eventuali aromi del vino è completamente diversa dall'areale del Rosso Piceno che invece è un areale di collina, sì, meravigliose che guardano il mare, bellissime ma che non hanno questa particolarità pedoclimatica stessa terra nel senso di stessa civiltà agricola e rurale questo sì, sicuramente E qual è il loro valore? I due valori sono un po' diversi onestamente perché il Verdicchio è diventato ormai il bianco più emblematico della produzione italiana il Rosso Piceno è un ottimo rosso ma che se la batte con moltissime altre denominazioni ha dalla sua però una caratteristica che essendo il Montepulciano ma in parte anche il Sangiovese abbastanza sensibile alle differenze di territorio ti puoi divertire a scoprire una serie di inflessioni dialettali in queste bottiglie quindi se uno si approccia al Rosso Piceno non con un'idea generale generica di bevo un rosso ma comincio a sentire, che so, quello d'Offida piuttosto che quello di Ripatranzone piuttosto che quello addirittura di Macerata perché come sai il Rosso Piceno arriva fino all'Ambire quasi la provincia di Ancona allora lì diventa un gioco molto divertente soprattutto con gli abbinamenti gastronomici 50 anni dal riconoscimento della DOC per il Rosso Piceno Giorgio Savini è il presidente del Consorzio dei Vini Piceni questa è un'occasione per evidenziare le attività che fa il Consorzio e anche raccontarci questo vino così longevo così famoso ma ancora da conoscere il Consorzio dei Vini Piceni tutela e promuove il Rosso Piceno oltre naturalmente a tutte le altre denominazioni soltanto per elencarli quindi l'Offida Passarino, l'Offida Pecorino e il Falerio, l'altro grande bianco delle marche comunque il Rosso Piceno è il rosso più grande delle marche sia come livello territoriale che come livello qualitativo sul livello qualitativo sicuramente non abbiamo dubbi è un vino che riscuote molto successo in giro del mondo i nostri soci lo promuovono continuamente, è molto apprezzato in Canada, in America so bene di aziende che esportano i loro prodotti e vanno molto forti in quei contesti è un rosso molto apprezzato, è un rosso importante per chi piace e beve già rosso è un rosso strutturato, ha una base ampelografica molto ampia quindi ogni socio può definirlo come meglio crede i 50 anni sono questi nostri primi 50 anni 1968 nasceva il consorzio con alcuni produttori numericamente pochi nell'arca degli anni è rinato il consorzio, questo nuovo consorzio io sono tra i soci fondatori, eravamo in 8, in 9, adesso neanche ricordo oggi siamo in 44 i numeri importanti rappresentiamo come consorzio comunque il 54% della produzione enologica regionale Alberto Mazzoni, direttore dell'IMT, si è invece soffermato sulla diversità delle due produzioni come elemento di forza questa differenza ci dà la forza di promuovere insieme un territorio Marche 100% Marche, Verdicchio e Rosso Piceno oggi sono le due denominazioni che trainano il sistema marchigiano è importantissimo perché comunque entrambe, nata nel 1968 negli anni sono sviluppate, hanno cresciuto, hanno investito nelle vigne, nella tecnologia, nella promozione e oggi abbiamo due vini che si possono presentare ai paesi internazionali ai consumatori locali senza temere concorrenza Il Verdicchio va molto bene anche nell'export fatica un po' di più il Rosso Piceno però l'attività di promozione che i consorsi portano avanti sono fondamentali Essenzialmente la promozione aiuta tutti quanti a stimolare e avvicinare nuovi mercati Tecnicamente oggi se va avanti più il bianco o poi il rosso dipende un po' anche dall'andamento della nostra società che a volte predilige più vini bianchi o vini rossi c'è stato un periodo che i rossi andavano molto più di moda oggi vanno un po' meno di moda è un sistema che cambia che noi gli stiamo adeguando in ogni caso vini giovani, freschi di pronta beva comunque riescono a soddisfare la stragrande maggioranza dei nostri consumatori e poi abbiamo delle riserve di prodotti più importanti invecchiati sia come il rosso biceno che come il verdizio che riescono a dare un'espressione del territorio molto importante che oggi riesce a lasciare un ricordo a quanti lo consumano Stefano Isidori è il presidente regionale dell'AIS delle Marche che collabora da sempre a questa iniziativa e quindi posso chiedere a lei come è cresciuta e che tipo di supporto e apporto ha dato l'AIS L'associazione italiana sommelier è sempre stata presente all'interno della manifestazione oramai dal primo anno anche perché io insegno qui a Sant'Elpidammare perciò conosco il presidente di Artvinando da decenni e perciò questo immediatamente è nata la collaborazione naturalmente diamo tutto il supporto tecnico e logistico con dei ragazzi che vengono ad aiutare per fare il servizio dei vini piuttosto che con degli interventi durante i vari convegni durante le varie attività e manifestazioni che Marino e Artvinando organizzano Sindaco, l'appuntamento di Artvinando questa volta proponi un convegno ma anche le degustazioni in un cartellone molto ricco di un'associazione che è di Sant'Elpidammare ma che è saputo aprirsi anche ai territori vicini e quindi è anche un'edizione importante e nuova sotto certi aspetti questa Questa è la quarta edizione, oggi è la giornata conclusiva voglio ringraziare questa associazione di Artinvino dove questa amministrazione comunale ci conta veramente tanto perché abbiamo notato la crescita abbiamo visto quanta gente porta a Sant'Elpidammare e a Porto Sant'Elpidammare perché dobbiamo dire che gli eventi vengono organizzati in tutti e due i territori perché a Sant'Elpidammare dopo il terremoto non abbiamo lo spazio grande proprio per contenere tutte queste cantine che vengono a Sant'Elpidammare le cantine e oleifici dobbiamo dire e quindi siamo veramente soddisfatti per quello che fanno e proprio per questo l'abbiamo voluti inserire all'interno dei festeggiamenti padronali Grazie a tutti i nostri spiegamenti padronali